Abbiamo visto due decreti diversi noi e il Presidente D'Alfonso. Già quando uscì dal Governo, D'Alfonso si dichiarò estremamente soddisfatto perché tutto ciò che aveva chiesto era stato recepito. Poi il decreto è arrivato in Commissione e quindi in Aula e in Commissione è stato inserito il cratere, che non c'era, anche se non c'è soddisfatto per come è stato fatto. E' stato inserito l'equiparazione sul nostro emendamento dei danni da maltempo nel cratere equiparati ai danni da terremoto, in particolare al mondo Lefrane, anche se è rimasto fuori, scuso tutto quello che è fuori cratere. E' stato inserito il danno indiretto, anche se con solo 22 milioni di euro per quattro regioni mi sembra davvero poco. Tutto il danno meteorologico non trova risposta. Se oggi i sindaci di Teramo, Ascoli, Macerata e Spoleto, quindi di centrodestra e di centrosinistra, dicono che i comuni sono stati lasciati abbandonati e che rischiano il dissesto, evidentemente dentro questo decreto non c'è nulla per le amministrazioni locali. Se il cratere è stato ampliato ma sono rimasti fuori comuni come Penne, come Catignano, come Penna Sant'Andrea, come Basciano, significa che qualcosa non è andato bene. Se si è avuto almeno la deroga al ridimensionamento dell'ospedale di Popoli, anche se sottoposto al tavolo di monitoraggio, quindi ancora con un grande punto interrogativo, e viceversa, per Penne non si è fatto nulla, si vede che qualcosa non è andato bene. Francamente un decreto che non ci piace.